Ragazzi, dopo la nostra gara, dopo la nostra corsa, dopo la nostra maratona, sarà molto importante fare tre cose. Primo, reidratarci. Quindi, mi raccomando, assumiamo acqua, ma anche, perché no, alcune bevande apposite che ci possono ripristinare i nostri sali minerali persi durante la nostra corsa. Secondo consiglio, cerchiamo di inserire delle proteine che ci aggradano in quel momento dopo lo sforzo. Magari, se non abbiamo appetito, possiamo utilizzare anche dei prodotti preparati appositi che contengono proteine in polvere. Ultimo consiglio, sarà importante in questo momento poterci godere il buon cibo che più ci piace. Quindi, jolly, senza nessun tipo di problema, andanno a riempire le nostre riserve di glicogeno muscolare ed epatico. Quindi, perché no, pasta party o quello che ci piace. Ciao e al prossimo video. Grazie. 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 Grazie.